Signore e signori, Bebop Gresta! Eccoci, eccoci! Ma che bello tornare in Italia dopo tanto! Mi piace, mi piace! Innanzitutto voglio scusarmi perché questa presentazione sarà in italiano, sono 15 anni che non faccio presentazione in italiano, quindi se metto qualche parola in inglese non è che voglio fare il figo, è che purtroppo il cervello ti si sovrappone, però diciamo prima di tutto, non so se lo sapete, in Italia è stato legalizzato l'applauso, quindi se vi sentite di applaudire, no, in generale applaudite ora, questo è un ordine, tutti i tecnici, il regista Simone, Gianluca, i tecnici Simone sono bravissimi, hanno fatto dei miracoli, se lo meritano. Allora voglio iniziare a raccontarvi un po' gli update di Hyperloop e un po' dove siamo. Io non inizio con una bella notizia di solito quando faccio una presentazione, i trasporti oggi sono rotti, lo avete visto quando siete arrivati qui, siete resi conto di quanto siamo inefficienti nelle cose che facciamo, tutto si inizia quando ci vendono la nostra fantastica auto immobile che invece di muoversi sta 80% dentro un garage o in traffico rubandoci la nostra vita e questo è il paesaggio che ci raccontano, una bellissima serie di immagini in città fantasma dove non c'è nessuno, con bellissime donne e uomini che guidano nel vento e tutto questo mondo fantastico esce dal rivenditore, eccoci qua, mondo reale. Uno ride, no? Però a un certo punto tutte le città nel mondo sono sovrappopolate, sono disegnate intorno al mondo dell'automobile che è immobile e stiamo morendo intorno a questo concetto, sì, stiamo morendo, lo farò vedere perché, è un mondo fatto di traffico globale, se voi vi lamentate del traffico italiano vuol dire solo una cosa, vuol dire che non siete mai stati in Cina. Ragazzi, questi sono ninja creatori di traffico, loro sono stati in linea, come si dice, in traffico per 11 giorni, non voglio neanche sapere come sono andati in bagno, però lasciamo per i dettagli, questo è Beijing nel giorno molto bello, questa è una bella giornata di Beijing, non è nebbia, è inquinamento, perché Beijing in un giorno cattivo è così, pensate che siamo distanti, vi faccio vedere un po' di dati, vi rendete conto che sta arrivando, questo sarà Milano tra qualche anno, potete dire, non mi interessa, io non prendo la macchina, vado sui mezzi pubblici, ok, andiamo a vedere i mezzi pubblici come finiranno, questo è Beijing, prendo Beijing, non è che ce l'ho con i cinesi, perché è dove c'è la popolazione e dove stiamo, tutti arrivando lì, stiamo tutti andando nelle grandi città, questo è Londra, il più avanzato sistema di metropolitana al mondo, eccoci qua, non è neanche un giorno di punta, l'ho preso io qualche mese fa, questo è San Paolo, qui ci sono stati tre feriti durante il Black Friday qualche settimana fa, in alcuni paesi devo dire l'hanno risolto, non è che è tutto così, perché in Giappone hanno dei uomini con i guanti bianchi che praticamente ti spingono dentro e quindi questo hanno solto il problema, credo che è un bellissimo futuro, questo è come finiremo noi, gli uomini con i guanti bianchi, però se tu pensi a tutto il mondo dei trasporti, abbiamo fatto qualche errore proprio nel disegno e queste sono tutte legacy, come si dicono, chi è che mi aiuta? Legacy, eredità, grazie, tu sei l'ufficiale traduttrice del web marketing forum, gli aeroporti sono concepiti rotti, noi 80% delle cose che facciamo all'aeroporto possiamo farle prima di arrivare all'aeroporto, perché ci tengono lì in linea, tutto sembra che sa dove stiamo andando, esclusa la nostra, lì già, noi stiamo lì a guardare il carosello, mentre la valigia è probabilmente spedita in Botswana e lo sappiamo probabilmente due settimane dopo dove è la nostra valigia, se no la perdiamo, ma attenzione, hanno risolto il problema, ci sono ora 10 negozi, ce ne saranno 30 entro la fine dell'anno, che rivendono i nostri bagagli al 70% di sconto, quindi risolto, voi perdete la valigia, andate lì e vi potete ricomprare i vostri vestiti al 70% di sconto, è fantastico, ma cosa significa che abbiamo inserito il pezzo di rottura dentro il sistema, ecco come risolviamo i problemi, è questo il futuro che ci aspetta secondo voi? Non credo, se io vi dicessi domani è l'ultimo giorno della tua vita, succede, il 21% dei morti al mondo sono incidenti stradali, non lo augura nessuno, però inizi a pensare, cazzo è l'ultimo giorno della mia vita, ogni secondo diventa importante, che cosa faccio? Sto insieme alla mia famiglia, alle persone che amo, tutte le cose che avrei voluto realizzare, non le posso realizzare, ogni secondo diventerà importante, giusto? Beh se noi viviamo in una di queste città, grazie all'inquinamento stiamo vivendo due, tre, quattro anni in meno di quello che era l'aspettativa di vita e stiamo diventando, è ok, per noi è tutto a posto, questo è il futuro che ci aspetta nel futuro, continuiamo a produrre macchine così e in tutte le città del mondo e sta aumentando questo, la nostra aspettativa di vita diminuisce e non è che ci rubano la vita tutta insieme, no? Ce la rubano mezz'ora qui, venti minuti qui, dieci minuti qua, io voglio che domani quando siete in traffico pensate a me e a quello che vi ho detto, perché è un problema che sta non solo affliggendo noi, ma tutte le generazioni future se non facciamo qualcosa, io non credo che ci meritiamo un futuro così. Ora, io e il mio socio qualche anno fa, un po' fuori di testa, quando Elon Musk ha pubblicato il white paper, white paper, white paper, fa che, c'è, abbiamo pensato che lui ha detto non lo riesco a fare, sto già facendo abbastanza per l'umanità, andiamo su Marte, vi do le macchine elettriche, tutto il mondo dell'energia solare, però non lo voleva fare e quindi ha pubblicato open source un documento e il mio socio abbiamo chiamato e abbiamo detto lo vogliamo fare noi, lui ha detto ok e come due folli, scatenati, abbiamo pensato di fare Hyperloop. Ora, quanti di voi non sanno che cos'è Hyperloop? Per favore, alzate la mano, tranquillo, ok, c'è un buon 30%, non lo prendo, no, tirate sulla mano, per favore, non lo prendo personali, ok, sicurezza rimuovete questi bastardi, dove siete stati, mannaggia voi, ho un video che spiega dove è Hyperloop, si può applaudire anche, no, guardi, no, è legale, è legale, fidatevi, ma non ho tolto l'acqua, ma storti. Imagine a capsule Imagine a capsule that can carry people Placed inside a depressurized tube The air removed to eliminate resistance Not traveling on rails But actually levitating above them Capable of reaching airplane speeds And beyond, on the ground This is a Hyperloop And it is amazing Even more amazing At Hyperloop Transportation Technologies We haven't been imagining it We've been building it For the better part, five years And amazing is where we started We're transforming the passenger experience Putting comfort and safety At the center of everything we're doing Our reimagined linear electric motor Is powered by sustainable solar energy Propelling the capsule on a completely new Incredibly efficient passive levitation system With these two breakthroughs Our system is capable of giving energy back to the grid And when something didn't exist We invented it Introducing Vibranium A composite material that monitors speed, capsule integrity And atmospheric condition in real time A new benchmark in passenger safety And we're not done Our team of over 800 strong A worldwide intellectual ecosystem of thinkers and problem solvers Tackle each day with the humble goal of changing the world With its speed and efficiency The Hyperloop will rewrite the rules of travel and mobility But that's just one side of the story There's another side that will have a far greater impact It's the side that redefines how we connect with one another Where distant friends become neighbors Countries become neighborhoods And everybody who inhabits this big crazy world of ours Grows a little closer together Just imagine that Thank you Thank you Vedi? Bravi Non a me ma tutti gli scienziati che stanno lavorando a questo progetto È fantastico lavorare a questo progetto Allora devo andare velocissimo perché ho pochissimo tempo E ho alcune immagini in esclusiva mondiale che stiamo presentando Abbiamo registrato la scorsa settimana sui progressi di Hyperloop Quindi voglio andare un po' veloce Non starò a tediarvi troppo sulle tecnologie Andate su Google troverete un sacco di fake news E vi sarete confusi completamente quindi perfetto Andate lì Diciamo Hyperloop è un sistema sicuro Efficiente e veloce Ma non è la velocità del suono la cosa più interessante È una conseguenza molto interessante Ma se continua a essere alla spesa dei consumi Delle risorse del pianeta non abbiamo risolto niente Quindi abbiamo lavorato con una serie di scienziati Per rendere il progetto non solo un'infrastruttura Che non ingombra il terreno Sostenibile Completamente con energie rinnovabili E ha un disegno adattivo Che si può adattare non solo ai differenti climi Ma a diverse tecnologie che stiamo includendo dentro Hyperloop Di silenzazione Sistemi geotermici Sistemi di freni rigenerativi Credo si chiami Cemento Ultra High Performance Concrete Questo Vabbè E una serie di altre tecnologie Che stiamo mettendo dentro Ma con una combinazione di pannelli solari Energia eolica Cinetica Freni rigenerativi E energia geotermica Riusciamo a produrre più energia di quella che consumiamo Questo è un esempio di feasibility study in Ottawa Dove possiamo realizzare 15% di energia in più Rispetto a quella che consumiamo Non è così difficile Potremmo farlo anche nei treni Mettendo pannelli solari Soprattutto la right away Diritto di passo E Hyperloop è disegnato sia per i sistemi di merci Che i sistemi di passeggeri Quindi immaginate che stiamo lavorando con il porto di Hamburgo Che non è più il porto più grande del mondo Ma è assolutamente il più avanzato in termini di automatizzazione Per realizzare una serie di modalità intermodali Con i sistemi attuali Quindi non dobbiamo cambiare tutte le tecnologie Stiamo disegnando cose che esistono già Questo è un Truck Camion Che si può Muovere sugli assi E può essere guidato automaticamente Ma la grande rivoluzione avverrà nel mondo dei trasporti col pubblico Quando possiamo caricare dentro una capsula 33 persone, 40 o 50 persone E muoverle velocemente a destinazione Immaginatevi ogni due chilometri potersi fermare Perché non devi andare alla velocità del suono Tutto, sempre, tutto il tempo Sarà, accelererà e diminuirà Lento, abbastanza Per non avere problemi con il discomfort Il conforto dei passeggeri Possiamo trasportare fino a 24 milioni di persone a tubo Possiamo mettere fino a 7 tubi sullo stesso infrastruttura Grazie a dei piloni con cemento ultra high performance Che riesce a sostenere tutto il peso Più dei sistemi geosismici Che riescono a isolare Isolatori sismici Che ti garantiscono Resistere al 9.2 della scala Richter Quindi se abbiamo problemi su Hyperloop Dovete preoccuparvi di qualcosina in più Tutto il resto è andato giù probabilmente Questo non è una teoria Ma abbiamo realizzato la prima capsula Un gioiello di ingegneria 21.000 ore ingegneristiche Da 42 paesi Hanno prodotto uno dei più avanzati sistemi Su terra al mondo Ha 80% di fibre di carbonio Contro il 60% degli aerei normali Doppio strato di framing Di copertura Quando negli aerei ce n'è solo uno E ha 70 punti di contatto Con un nuovo materiale Che si chiama Vibrimium Io ce ne ho un pezzettino qui È 7 volte più flessibile Dell'alluminio E 2 volte più resistente dell'acciaio Ma ha dentro una serie di sensori Sottili come capelli Che possono trasformare completamente L'industria delle cose Diventa tutto internet of things Tutto diventa smart Puoi avere sedie che ti dicono Come sei seduto Tavoli che ti dicono Se stai mangiando correttamente Eccetera 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 Non sappiamo ancora Quante cose possiamo fare Con i materiali Che stiamo disegnando con Hyperloop Ma la vera innovazione È nel fare un reset Del concetto di passeggero Voi guardate quando ci stiamo trasportando oggi Fa schifo Prima classe Seconda classe Che cosa significa? Non significa niente Io sono una persona La stessa persona Ho bisogno di cose diverse Quando viaggio Se vado al lavoro Ho bisogno di cose diverse Quando torno Se sono con i miei parenti Ho bisogno di cose diverse Se sono turista da solo Stessa persona Bisogno di cose differenti Quindi abbiamo fatto un reset Del concetto di passeggero Lo chiamiamo il passeggero nudo Sì esatto Vai tutto nudo Dentro la capsula No Non hai bisogno di nient'altro Che la tua biometria Il sistema ti riconosce E praticamente non hai bisogno di biglietto Di niente Un smart contract viene attivato Ti riconosce In un sistema di cloud Che non appartiene a nessuno E questo contratto Viene chiamato in quel momento Che definisce anche le cose Di cui hai bisogno In quel preciso istante Abbiamo spazi che stiamo disegnando Con aziende importantissime La prossima settimana faremo un annuncio Anche aziende italiane Importantissime Stanno lavorando a questo progetto E guardi fuori Invece che una finestra E uno schermo Ad altissima definizione Sì i tuoi occhi Non sono così efficienti Riescono a vedere Massimo 10k O 12k Di pixel Quindi siamo già A una definizione Che può essere Molto vicina a realtà Ma ovviamente In uno schermo Non hai la prospettiva E noi riusciamo Ad avere La prospettiva Muovendoci E quindi questa signora È in grado di vedere Dove andare Andare a Parigi Andare nel futuro Nel passato Che possiamo portare lì E non è solo Un nuovo modo di trasportare Nel futuro È un nuovo sistema Di monetizzazione Perché noi vogliamo Democratizzare I trasporti Non devono essere costosi Non devono essere solo per ricchi Dovrebbe essere dato Gratuito per tutti E solo fare Il charging L'addebitamento Dei sistemi Premium Anche le stazioni Anche le stazioni Sono definite Tutte senza friction Facciamo Scanning passivo E fermiamo Solo i cattivi Abbiamo Un kiloton Di resistenza esterna 12 contratti Firmati Con Con governi Se mi vedete Su internet Incontrare Ho incontrato 32 primi ministri Perché non è che sto Fai il figo È perché stiamo discutendo Con le nazioni Contratti E 12 di questi Sono stati firmati Abbiamo avuto Un'esposizione Di 7 billion So voi che non avete visto Hyperloop Veramente Guardate Vabbè Comunque Abbiamo una versione Hyperloop Grazie Tutto sta fatica Sto prendendo Tre aerei Alla settimana È brutale Cioè Almeno un po' Di soddisfazione Solo in Italia Non lo conoscono Vabbè Il sistema Hyperloop Può essere anche Locale Quindi Va più lento Vi giuro Che concludo In due minuti Abbiamo Più di 900 Scienziati Che lavorano Da 42 paesi Perché abbiamo Un sistema Di crowdsourcing Significa che Chiunque può partecipare In cambio Di stock option E questa è una Call to action A tutti Italiani Ingegneri Architetti Avvocati No grazie Non ci servono Ingegneri Architetti Applicatevi Prego Abbiamo bisogno Di italiani I talenti italiani Sono i migliori Al mondo Abbiamo ingegneri Migliori al mondo E nessuno Lo dice Fatevelo St'applauso Che cacchio 70 mila ore Ogni anno Vengono Contribuite Ai problemi Non è che È una donazione Stock option Ora abbiamo passato La valorizzazione Di un miliardo Di dollari E quindi Sono soldi questi A noi che stavamo A giocare Harvard Ci ha fatto Uno studio Apposta E ci insegnano Da Harvard C'è un corso Che insegna Il nostro modello Di crowdsourcing At Harvard Quindi se volete Anche scoprire Come funziona Il modello La terra At Harvard È facilissimo Lo sheiko Falabi Zayed Al-Nayan È a bordo Della Non è che Dovete applaudire Sempre Ora dai Lo sheiko Di Abu Dhabi È a bordo Della società Il nostro local sponsor Abbiamo due Astronauti Con il Accordo Space Agreement Di NASA Ma dove siamo Ai provi Ecco perché Voglio andare veloce Voglio far vedere Una cosa fantastica Abbiamo appena Iniziato i test Del primo Hyperloop Della storia E ho un piccolo video Che vi fa vedere Che cosa è Prima il mondo Non lo vedi a nessuno 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 L'amiricano L'amiricano Qui a planté Le drapeau Sur la lune Tout ça Je l'ai vécu Dans ma vie on m'a dit qu'il y avait du nouveau bientôt con une nouvelle manière de parcourir la terre et on vous emmène dans un tube à 1000 km heure en lévitation et ça marche avec l'énergie solaire l'avion à l'époque aussi c'était un grand défi je me rappelle de mon père cet engin ne va jamais décoller du sol cette machine, vous l'avez construit n'est-ce pas ? c'est quoi son nom déjà ? Hyperloop d'été c'est quoi son nom déjà ? c'est quoi son nom déjà ? c'est quoi son nom déjà ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi son nom déjà ? c'est quoi son nom déjà ? c'est quoi son nom déjà ? c'est quoi son nom abbiamo tempo, il mio messaggio è che stiamo, iPro sta arrivando, stiamo in fase di testing, non stiamo parlando più di decenni, stiamo parlando di anni, ci sono 12 sforzi in giro per il mondo, ma state attenti perché io sono in Italia quattro giorni, sto parlando con il governo, sto parlando di alcune regioni, c'è una cordata di imprenditori che hanno messo in piedi un progetto fantastico su un momento concreto dove l'Italia potrebbe fare il leapfrog, grande salto, passando da queste tecnologie obsolete di alta velocità che sì sono belle, confortevoli, ma che per ogni passeggero necessitano di altrettanti soldi, di contributi dallo Stato, quindi le nostre tasse vengono spese per far viaggiare questi passeggeri in maniera confortabile, con tecnologie invece che costano la metà e che poi riescono a realizzare e recuperare l'intero investimento, vuol dire che dopo questo paga i sussidi allo Stato per essere operativo e quei soldi possiamo usarli per fare le scuole, per fare le cose che ci servono, perché continuano a spendere i soldi così, a cazzo di cane, scusatemi, e che cazzo, e quindi aiutatemi, non ci credo, non ci credo che succeda in Italia, ma apparentemente sembra che ho fatto diversi discorsi con gente che sembra molto seria, che vuole realizzare una prima Italia, quindi applicatevi vi prego, il futuro è qui, ci sono aziende che cercano di prevedere il futuro, noi lo stiamo realizzando, grazie mille, grazie. Bipop Gresta, grazie Bipop. Grazie, ciao.